Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 11 tra Pistoia e Prato Est, in direzione Firenze, 6 km di coda per un incidente che ha coinvolto due camion, avvenuto nella carreggiata opposta verso Pisa, al km 14. Nell'incidente si è verificato lo spostamento dello sparti traffico centrale che occupa parzialmente la corsia di sorpasso in direzione Firenze. Ci sono poi code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma, code tra il Vivio per la Undici e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci e Firenze Sud e code tra Valdarno e Arezzo. A Firenze, per i lavori della tramvia, è stata riaperta la corsia di piazza a stazione lato edifici. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!